Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato ai vocalizzi. Oggi ci aiuta Maria Duni. Ciao a tutti. È una cantante potente. E il vocalizzo che andremo ad eseguire è un vocalizzo a nove note. Ma lo vediamo subito dopo la sigla. Cantare in Libertà Facciamo subito una premessa. Per chi non sapesse che cosa sono i vocalizzi c'è un link di una puntata che è la prima puntata di questa playlist dove io spiego che cosa sono i vocalizzi e a che cosa servono. E oggi facciamo una scala di nove note, quindi partendo dal Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do E si torna. E lo faremo con la lettera I seguita dalla lettera O. Vi faccio vedere. Come avete notato ho messo una M all'inizio del suono per attaccarlo più in maschera possibile. Per la femminuccia sarà così. Proviamo. Esatto. Il cambio avviene a tempo. Facciamo un altro esempio. Mi raccomando. Per più minucce. Quindi ci saranno quattro I all'inizio seguite dalla O. Mi, I, I, I. Mi, I, O. E poi seguiamo. È molto semplice, anche se sembra che ci siano troppe note, però alla fine è più facile farlo che a dito. Partiamo sempre dai bassi, quindi da un Mi. E facciamo così. Anche i contratti possono farlo. Andiamo avanti. Ancora. Provate voi. Mi, O, 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 O. M, O, 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 O. M, O, 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 O. A questo punto continuano soltanto le voci più acute Non andiamo oltre anche se comunque si può salire Quindi scendiamo Proviamo anche la voce femminile Lasciate voi Maschetti Allora fate la strada dove sta la I Come se chiamassi una persona da lontano Mio Qua possono continuare i contratti e i bassi Mio 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 Ancora Mio 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 Io ringrazio Maria Lumi per averci aiutato. Vi lascio, come detto, il link su dove trovare la puntata, che cosa sono i vocalizi e che cosa servono. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!